E' un'era da domenica il nuovo Spot Sky. Tu all'incontro WPP che c'è stato hai detto meno testa più cuore. Ci siete riusciti in questa campagna? Sì, in realtà all'incontro WPP riportavo una citazione di Albert Einstein che adoro particolarmente, che diceva c'è molta gente che crede che una cosa sia impossibile e poi arriva uno sproveduto e la fa. In realtà è proprio quell'essere sproveduti, più attaccati ai sentimenti, più alle cose di pancia, di cuore, che non solo di testa. Io ho la sensazione che ultimamente stiamo ragionando un po' troppo in modo cervellotico. E quindi questa campagna di Sky che mi piace particolarmente per una semplice ragione, perché tocca delle corde profonde, tocca delle cose anche molto semplici che sono il rapporto tra le persone. Ed è una campagna che è nata in un modo molto semplice. Sky Cinema è un prodotto straordinario per due cose. Per quello che offre, cioè i film, ma soprattutto anche per come lo offre. Se ci pensi, il My Sky, che è una modalità per vedere il cinema, è una rivoluzione straordinaria. È qualcosa che ha... Sai che in Inghilterra si chiama Sky Plus? Il My Sky appunto si chiama Sky Plus. Se quando gli dicono registrare, non dicono registrare, recorded, ma dicono proprio Sky Plusing, no? È diventato un vero e proprio verbo che c'è nel dizionario Oxford. Quindi è curioso perché vuol dire che è una vera rivoluzione quando entra nel linguaggio. E credo che sarà così anche qui in Italia, perché è qualcosa di molto vicino a quello... è la cosa più rappresentativa del senso dell'innovazione che Sky ha. Ecco che allora, quello che io penso, è che noi quando dobbiamo fare una comunicazione come questa del Christmas, del Natale di quest'anno, deve essere un'emanazione del prodotto. Non deve essere... cioè scusami, deve essere proprio una parte del prodotto. Deve essere... e quindi dobbiamo fare un prodotto di alto livello, perché il prodotto Sky Cinema è un prodotto di alto livello. E l'abbiamo fatto attraverso le emozioni. Il cinema fa tante cose e qui abbiamo toccato delle corde un po' più calde, un po' più human. Dietro però c'è un lavoro molto complesso, un lavoro strategico e di branding. Ed è un lavoro frutto di una struttura che secondo te si deve chiamare azienda di comunicazione e non agenzia. Perché questo? Ma per la semplice ragione che noi... io non mi sono mai sentito un fornitore dei nostri clienti. Mi sono sempre sentito un partner e quindi come tale vorrei parlare da azienda ad azienda. È una cosa che sostengo da tempo anche all'interno dell'asso comunicazione. Quindi vorrei proprio che questo rapporto paritetico di partnership fosse il minimo sindacale per poter fare un lavoro insieme. E oggi proprio l'azienda di comunicazione, come noi pensiamo di essere, ha proprio delle modalità diverse. che è quella di entrare in quelle che sono le problematiche proprio del prodotto, dell'azienda, della sua visione, della sua capacità poi di dialogare con i suoi nuovi consumatori, in tutte quelle che sono le modalità digitali, che sono le modalità offline, i nuovi linguaggi, i nuovi modi. Ad esempio ritorno ancora al MySky e il MySky è proprio una modalità diversa. Come è diverso ad esempio X-Factor, che non è solo un bel programma, è un programma di come funziona il mondo oggi, in cui l'interattività è appunto ancora una volta, è il minimo sindacale, è normale che ci sia. Solo che Sky è la prima a farlo. Cosa rispondi a tutte quelle aziende in un'ultima Trenitalia che dicono che le campagne se le fanno da sole perché solo loro sono in grado di conoscere al meglio il proprio brand? Guarda, ognuno può fare quello che vuole, ogni azienda è libera di decidere e al di là come dire di... Io invece penso esattamente il contrario, penso che la visione da esterno sia sempre quella più interessante. Ogni tanto io e Roberto Battaglia diciamo attenzione, attenzione, siamo troppo attaccati a questo cliente, dobbiamo staccarci per un attimo perché è importante avere una visione dal di fuori, perché noi non facciamo comunicazione per le aziende, lo facciamo per i 60 milioni di persone che sono là fuori, che è un'altra cosa, fare quello che desiderano le aziende è veramente molto facile, basta che conosci chi decide, conosci un po' i suoi gusti, è come fare la comunicazione ad un target di una o due o tre persone, ma non è quello che facciamo noi. Spesso noi abbiamo risposte che sono magari un po' rudi, magari un po' come dire così controversial, ma in ogni caso per noi sono oneste, è la nostra natura. Ultima cosa, campagne strategiche di branding che richiedono lavoro, posizionamento e tempo anche per essere capite e sviluppate, ma anche campagne one shot, a cui voi però non rispondete di no. Come convivono queste due strategie? Allora, diciamo che la nostra ambizione è quella di avere dei clienti long term, ma per il loro bene. Io non penso che una marca si costruisca in un pomeriggio con un'idea di one shot, però penso che il one shot possa essere una modalità per conoscersi, è un po' lo step successivo della gara. È come dire, io intanto ti faccio questa possibilità, ti faccio questo progetto. Questo progetto riesce in qualche modo a far capire che la nostra partnership ha un insieme di cose positive, che, ah sì, io esattamente ti capisco, tu capisci come lavoriamo noi, e quindi è un processo evolutivo che può portare a degli esempi, ne faccio uno su tutti, noi con Honda abbiamo fatto un progetto per il lancio di una moto, adesso ci hanno dato un altro progetto, mi auguro che nel tempo queste cose vadano a consolidare un nostro rapporto che è fatto di fatti, di cose precise, di cose che sono, come dire, molto tangibili. Quindi i numeri e non chiacchiere, è per questo che voi quando vi presentate, presentate i numeri, al di là della creatività? Sì, noi quando facciamo New Business, nel senso che presentiamo la nostra agenzia, abbiamo così l'ambizione di pensare che il nostro lavoro sia già conosciuto, e quindi magari facciamo vedere le cose che non sanno di noi, che sono quelli che sono dei veri e propri numeri, che significa, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme la brand awareness aveva un certo valore, oggi ne ha un altro, le vendite erano queste, oggi sono quest'altro, e i numeri, come si dice, i numeri non mentono.